Nel prossimo decennio la capacità di parlare in modo carismatico ed efficace conterà più che mai. Lo sostiene Carmine Gallo nel suo libro Five Stars. Ciao, sono Chiara, allenatrice di Public Speaking e di Video Public Speaking. Ti alleno di persona e via web, anche in inglese e in tedesco. In questo video voglio spiegarti quello che ho imparato dalla lettura di un libro Five Stars dell'autore Carmine Gallo, celebre speaker americano. Carmine Gallo nel suo libro ci fa riflettere su tre cose molto importanti. Riflessione numero uno. Siamo in un periodo storico nel quale i cambiamenti sono sempre più veloci. C'è la globalizzazione, c'è l'automazione, c'è l'intelligenza artificiale. Ma che ruolo avranno gli umani nei prossimi decenni? Le macchine potranno mai sostituire la nostra capacità di comunicare, la nostra capacità di creare emozioni, la nostra capacità di permetterle alle persone di immaginare qualcosa? Assolutamente no. E allora, perché noi umani continuiamo a dare per scontata un'abilità così fondamentale? Vogliamo forse arrivare impreparati nel prossimo decennio? La seconda riflessione di Carmine Gallo è relativa alle storie. Le storie rappresentano l'elemento più importante per suscitare emozioni quando comunichiamo. Le storie permettono il rilascio dell'oxitocina, che è l'ormone dell'amore e della fiducia. Sì, quando comunichiamo storie riusciamo a creare un ponte, una connessione tra noi e chi ci ascolta. E quindi una competenza fondamentale per il prossimo decennio è proprio quella di saper raccontare storie, facendo emozionare chi ci ascolta. Queste storie, dice Carmine Gallo, possono essere di tre tipi. Possono essere storie che riguardano noi stessi in prima persona, storie che riguardano i nostri clienti, storie di persone come noi che avevano dei problemi, se ne sono resi conto e dopo aver affrontato un periodo difficile sono usciti da quel tunnel. E ancora possono essere storie che riguardano il nostro brand. Quando raccontiamo storie di questo tipo andiamo a chiarire in modo molto forte quali sono i valori della nostra azienda. La riflessione numero tre di Carmine Gallo riguarda l'importanza di essere creativi, ovvero di allenare costantemente la nostra creatività, che chiaramente sta alla base di discorsi persuasivi, perché possiamo persuadere quando abbiamo a disposizione sempre idee nuove. E per farlo, dice Carmine, ci dobbiamo ispirare a geni della storia, come ad esempio Leonardo da Vinci, che è stato uno scienziato, ma anche un matematico, e anche un letterario, e anche un appassionato di gastronomia. E allora, perché non spaziare in tantissimi interessi con la nostra mente? Perché non alimentare il nostro cervello di nuove idee che possiamo poi utilizzare per i prossimi speech e renderli così ancora più persuasivi? Quindi, ricapitolando, le tre riflessioni principali che ho tratto dalla lettura di Five Stars di Carmine Gallo sono numero uno, l'importanza di allenare con consapevolezza la nostra capacità di parlare in pubblico, di comunicare in modo persuasivo, perché questa capacità ci rende unici e insostituibili dalle macchine, due, la capacità di raccontare storie in modo emozionale e convincente, e tre, la capacità di allenare il nostro cervello alla creatività. E tu? Cosa stai aspettando? Stai aspettando forse di arrivare impreparato nel prossimo decennio e di vederti sostituire da una macchina? Non credo proprio, vero? Ti aspetto nella mia community. Vai subito su chiaraalzati.it Lascia gratuitamente la tua mail e accederai subito a una serie di bonus, tra i quali anche la possibilità di ricevere direttamente a casa tua una copia gratuita del mio libro, Video Public Speaking. Ciao e al prossimo video!